La manifestazione a San Giovanni Non tenendo conto che questa tipologia di partecipazione non è quella delle folle oceaniche dei sindacati che erano poveracci che li prendevano dalle province No, li portavano un viaggio a Roma gratis Esatto, li portavano a Roma gratis Con la merenda al sacco gli davano Non solo, tutto gratis e la merenda al sacco Allora noi ci siamo abituati a quello In realtà la partecipazione a queste manifestazioni Poi io spero che voi le vediate su Alba Mediterranea o su altri siti C'è stata, è una partecipazione importante Che ha segnato sicuramente un punto molto importante nella evoluzione storica di questo paese Dopo di che voi vedete qui che io ho alcuni libri che vi farò vedere Leggerò anche alcune frasi di Gramsci I pensieri di Torino Il quale Gramsci circa un secolo fa le aveva asseccate tutte Nel 1918 era Torino e ha fatto i pensieri Che ogni giorno si viveva Non solo, ma queste sono cose più interessanti che riguardano i rapporti tra l'Italia e il Vaticano Anche, anche Un'altra cosa che vi voglio leggere Perché in questi casi, ripetiamolo Esprimere opinioni significa poco Quello che conta è avere queste opinioni suffragate da testi ufficiali Per cui io comincerò subito a leggervi qualcosa da questo libro Ed è molto importante Se poi qualcuno non riesce a capire qualcosa Me lo può chiedere via e-mail Allora, capitolo sesto La vaccinazione anti-influenzale Siccome molte persone ancora non hanno capito dove vuole arrivare il sistema Vi diciamo subito che una delle tappe del sistema è l'obbligatorietà della vaccinazione Perché? Perché ci guadagnano E riducono in maniera tassativa le capacità immunologiche delle persone che la ricevono Qui c'è scritto, questo è un testo importantissimo Che è stato pubblicato nel 2009 Undici anni fa E vi leggo la questione Questo per quanto riguarda la vaccinazione Con questo non significa che noi neghiamo l'importanza di vaccinazione Come la vaccinazione contro il vaiolo La vaccinazione contro il vaiolo Ha funzione e funziona E' un'altra cosa Ma contro il vaiolo nel 1700 E' un'altra cosa di questa situazione qui La vaccinazione è intervenuta E ha risolto un problema Io cito sempre il caso della imperatrice d'Austria Maria Teresa Maria Teresa Madre Dei 14 figli 14 figli Di cui quasi tutti morti per vaiolo I sopravvissuti Non è che siano finiti molto bene Perché una era Maria Antonietta Però l'avevano tutti sistemati bene Inizialmente l'avevano tutti sistemati bene Esatto A Napoli, in Francia Allora, Maria Antonietta Gli hanno tirato il collo E un'altra è stata accusata Di essere stata l'assassina Per il tramite di un anarchico Della famosa Sissi E non sono reputazioni molto commendevoli Compresa la reputazione Che ha portato alla ghigliottina E la povera Maria Antonietta Che era una strozzetta da quattro soldi Oltredutto Allora, vi volevi dire qualcosa? No, volevo dire che l'altro figlio maschio Era quello dei Borbone di Napoli Certo Adesso non mi ricordo più Se era Franceschiello No, assolutamente No Chi era? Ferdinando De Gondo? La figlia di Maria Teresa Sorella di Antonietta Andò a sposa al Borbone di Napoli Ah, giusto Va bene Allora, leggiamo queste cose Cari medici Secondo me i vaccini antinfluenzali Non servono Le campagne per le vaccinazioni di massa Organizzate dai ministeri della sanità Sono solo soldi sottratti Alla ricerca seria Orientamenti e mode So bene che rischio di provocare polemiche Ma è esattamente questo il mio pensiero Chi l'ha detto questa frase? Non lo so Albert Sabin Ah, cavolo L'artefice del vaccino antipolio Che se ne intendeva Se mi permettete Così come se ne intende anche Anche perché ha risolto davvero il vaccino antipolio Esattamente Ha tolto il problema di tanti disabili in giro per il mondo Non solo i disabili ma i problemi Io ricordo che quando è nato il mio primo figlio C'era Era appena stata approvata in Italia La vaccinazione Salk Che era appunto quella Collinezione E Si viveva tutti nel terrore così Che il bambino nascesse con la polio Era il terrore di tutte le famiglie Anche ricordandosi Erano 200.000 in giro per l'Orova Non uno 200.000 famiglie con quel problema Perché anche Mussolini Che aveva fatto tutti gli altri figli benissimo La sua ultima figlia Ebbe la polio Quindi Non è uno scherzo Va bene Quindi Sabin Che se ne intendeva Sapeva perfettamente Che la vaccinazione antinfluenzale Era pericolosa Perché laddove una vaccinazione non serve È pericolosa C'è una marea di controindicazioni Di danni collaterali infiniti Perché se però funziona Per togliere una malattia grave Il collaterale lo accetti pure Ma certamente Ma quando non lo è La vaccinazione antidifterica Ha risolto il problema Perché c'erano un'infinità Di bambini Che morirono di difterite Compreso un fratellino di mia madre Ma veramente Ma prima di Volevamo parlare un attimo Della manifestazione di oggi O no? Le parliamo dopo Ma io direi Concludiamo questo discorso Ok No perché c'erano alcuni aspetti Sì Sabin Illustrò i dati ufficiali americani In cui si evidenziava Che chi era stato vaccinato Contro l'influenza Si ammalava Nella stessa percentuale Di chi non si era fatto vaccinare Questo del 1985 E vale tutt'ora Esatto Ma questo c'era La riprova ce l'avevi Quando l'Istituto Superiore di Sanità Pubblicava mensilmente I dati Che venivano comunicati dai medici Sulle malattie infettive Quindi lì avevi il quadro Non a caso L'hanno tolto E cazzo Devono fare tutte queste truffe Per forza Una prova scientifica Della efficacia Della vaccinazione Non esiste Semmai Possediamo solo indicazioni In senso contrario Lo hanno confermato I recenti ricercatori Della Cochrane Vaccine Field In collaborazione Con l'Università di Oxford Quindi la Cochrane È un'associazione Che è nata Quell'abbiamo detto Tante volte Su indicazione Del dottor Cochrane Che riguardava La revisione Sistematica Di tutte le pubblicazioni Che sono stati fatti Su tutti gli argomenti Medico-scientifici Le revisioni Venivano fatte Reguardo a me Venivano fatte Hanno cominciato A essere fatte Negli anni 90 E dagli anni 90 In poi Hanno revisionato Tutto quello Che veniva Pubblicato Su tutto ciò Che avveniva In campo Medico-scientifico Con un'enorme Revisione Revisione Delle concezioni E le considerazioni Sui farmaci Sui vaccini Su quant'altro Quindi se c'è qualcosa Di preciso È proprio quello Che ha stabilito La Cochrane È stata una purificazione Dei dati Esatto D'accordo con L'università di Oxford Che non è l'ultima Università del mondo C'è mia nipote Che l'ho già detto Sì Ah no Mia nipote Sta a Cambridge Cambridge Che hanno valutato L'efficacia Riduzione dei casi Confermati In laboratorio E Effectiveness Riduzione dei casi Sintomatici Dei vaccini Antinfluenzali Inattivati Ovivi Attenuati Nei bambini Fino a 16 anni Di età Hanno analizzato 5 database Hanno selezionato 64 studi Diversi Studi 64 studi Così funziona Di somministra O dovrebbe sempre funzionare No Quello funziona Il fatto che non li prendo In considerazione È un'altra cosa Di somministrazione Del vaccino Per concludere che L'efficacia Nei bambini piccoli È assolutamente Non provata I risultati Sollevano dubbi Sull'opportunità Di effettuare Un programma Di vaccinazioni Antinfluenzale Estesa Nei bambini Senza prove adeguate Che questa Funzioni O sia interamente Sicura Lancet Non è pubblicata Sulla prima rivista Che sono quelle Dove scrivono Gli altri Funzionari Della sanità italiana Roba Veramente D'accesso Questo è il Lancet Del 2005 366 1165 1174 Gli ultimi dati Riguardano le pagine L'efficacia del vaccino Nei bambini minori Di 5 anni Così come Negli ultra 65 anni È risultata Incerta Quando Non ha duratura Assente Mentre Invece Fanno fare Campagne Vaccinali Per gli anziani Esattamente Paragonabile Al placebo Nei bambini Minori Due anni Infatti Allucinante Demenziale Come minimo Pensare di proteggere I bambini Con questa vaccinazione Dalle malattie Invernali È un grosso Equivoco Su cui bene Lucra L'industria Del farmaco Si sai che i bimbi Specialmente Se frequentano Asili e scuole Materne Si ammalano Spesso E la vaccinazione Antinfluenzale Non comporterà Alcuna diminuzione Né di intensità Né di numero Delle comuni Infezioni Delle vie aeree Superiori Possibili Durante i mesi freddi Il vaccino Contro l'influenza Non ha effetto Alcuno Sui circa 500 Tra tipi E sottotipi Virus Che sono capaci Di infettare I bambini Nei primi anni Di vita Per cui Statisticamente Non avremo Alcuna modificazione Alla loro Tendenza Ad ammalarsi Queste cose Le leggiamo Perché questi Continuano a puntare In totale Malafede Non è cambiato niente Sì Sotto il profilo Medico Farmaceutico E sanitario Non è cambiato niente E se valeva l'ora Allora Vale tutt'ora Certo Non hanno cambiato niente Hanno appicciorato Concludo questo capitolo Una caratteristica importante Di tutti i virus Influenzali A cominciare Dalla covid Diciannove E la capacità Di variare La possibilità Di acquisire Cambiamenti Nelle proteine Di superficie Ogni Diciamo Come si dice Contagio È una mutazione Esattamente E non potrebbe essere Differente C'è un virus Perché il tuo metabolismo È diverso dal mio Non solo Ma c'è un virus Si deve adattare Noi ci adattiamo Noi razza umana Ci adattiamo A tutte le possibili situazioni Il virus Lo si deve adattare Ma soprattutto Entrando in un sistema Biologico Diverso dal mio Allora cosa succede Vi ricordo sempre Quello che dice Il povero Professore Aiuti Mia ex compagno Di scuola Una volta che fu Interrogato Durante una trasmissione Televisiva Era una persona Proprio Per benissimo Si Il quale Il quale Ha una domanda Che gli chiedeva Appunto Perché questi vaccini Erano Non servivano Perché diceva Il sistema immunitario Risponde A una domanda Certo E si risponde A quella domanda È distratto Dall'altra Dall'altra Per cui Si butta tutto Su questo Che magari Non conta niente Certo E lasci aperta la porta A tutti gli altri Ma questo concetto A chi lo dobbiamo dire Noi Capisce un cazzo Nessuno E quelli che devono capire qualcosa Sono finanziati E corrotti Queste mutazioni Spiegano perché Il vaccino Non funziona La corrispondenza Tra i ceppi virali Circolanti E quelli contenuti Nel vaccino È sempre un'incodita A causa Della grande variabilità Dei virus Influenzali E dei lunghi tempi Sei, nove mesi Che occorrono Per allestire Il vaccino In due stagioni Esaminate 2003 2004 2004 2005 Nello studio Di Silaghi Non vi era Corrispondenza Tra i ceppi virali Circolanti E quelli contenuti Nel vaccino È normale È la cosa più banale Che dovrebbe essere Allora Chiedetevi Chiedetevi Quando vi vogliono Fare il vaccino Contro il covid Il 19 C'è il 19 Il 20 Il 21 Il 25 Il 95 Le reazioni avverse Oltre a quelle locali Arrossamento Dolore Tumefazione Indurimento E prurito In sede di Inoculo Ne sono segnalate Di importanti Di ordine generale Quali febbre Malessere Mialgie Ma anche a lungo termine Che non vengono rilevati Per qualcosa lì Sì Ti possono uscire Dopo 10 anni 20 anni Angioedema Asma Anafilassi sistemica Neuropatia ottica Ischemica Neurite ottica Sindrome oculorespiratoria Poliangite microscopica Eritromegalgia Sindrome di Guillain-Barré Addirittura Paralisi del facciale La sindrome di Guillain-Barré È la malattia Che era provocata Dalla Non me la ricordo più Dalla medicina Che dicevano Essere stata inventata Dalla Levi Montalcini Ti ricordi Ah sì Per prevenire il contagio Con il virus Si può intervenire Con misure Non farmacologiche Banalmente Lavandosi Frequentemente Le mani Ma è molto più conveniente Vendere vaccini Che saponette Certo Chiaro? A conclusione Di questa prima Chiacchierata Vi voglio far vedere Due cose Perché sono molto importanti La prima Sull'importanza Dei medicinali E su come Si scatenano Delle guerre Per i medicinali C'è questo libro Che non viene mai citato Ovviamente E che La storia Della spirina Ah Questa è bellissima Come al solito Una scoperta casuale No A parte quello La storia Della spirina Qui Non riguarda Come siamo arrivati All'aspirina Riguarda Le battaglie Che sono state fatte Soprattutto Legali Sì Fra stati Fra stati uniti D'America E Inghilterra Per il possesso Della spirina Questo libro Del 2005 Non l'ho mai sentito Citare Mai Qui sono Aspetta un minuto Qui sono 300 pagine Che raccontano Esclusivamente Non la storia Dell'invezione La storia Delle battaglie E Giudiziarie E giudiziarie Tra stati Per avere Il brevetto E poter utilizzare Questo farmaco Ma Immagina Miliardi di aspirina Che sono state fatte Nel corso Dei 30 anni 40 anni Questi 40 anni Ah di più Di più Torno al 40 L'aspirina Ah no Il 1910 Sì Certo Una delle prime Grandi Scoperte Della Medicina Chimica Certo Perché Nasce tutto Da un ricercatore Della Bayer Quindi Questo per dirvi Quali sono Le lotte Certo Uno potrebbe dire Certo L'aspirina Non è il resto Ma siccome io Ho lavorato Nell'industria farmaceutica So perfettamente Quali erano In retroscena Di certe battaglie Tra farmaci Sostanzialmente Differenti L'uno dall'altro Ma con la stessa Indicazione Insomma Questo ve l'ho voluto Far vedere In modo tale Che capiate Perché raccontano Tante cazzate L'ultima cosa Poi do la parola A Orassio Che parlerà No ma Parliamo tutti e due Della vicenda Di oggi Sì sì Va bene D'accordo Un'altra cosa Molto importante Io qui vi faccio vedere Un libro Che nessuno Di voi Vedrà mai più Cioè Io lo faccio vedere Lo cito Ieri era un medico Che praticava Una sua Medicina Come si può dire Per la terapia Del tumore Ma non era una cosa strana Era semplicemente Una sostanza Che era la colchicina Che è un estratto Del colchico Noto da millenni Che lui diluiva In una soluzione E dava per il gocce Siccome questa situazione Interferiva Con gli interessi Dell'industria E con gli interessi Dei medici Lui a un certo punto Per aver fatto Una cosa Perfettamente legittima Perché il colchico Era estratto Del colchico Era nella farmacopeia Ufficiale Sia italiana Che europea Il colchico Era derivato Della corteccia Del cervello No Colchico È una pianta Un'erba Lo conoscevo Il colchico Diciamo di più È una pianta Molto Ambita Dalle capre Non lo sapevo Tant'è vero Che il famoso Veterinario Di Agropoli Che aveva scoperto Che aveva scoperto Che Agropoli in Campania Passava per essere Sanzione Assolutamente Non è lui Non è lui Lui ha fatto Era un veterinario Condotto E quindi Dei vischere Avevano assorbito L'essenza Di questo cortico Questa è tutta una cosa Che abbiamo scoperto Noi Quando facevamo Noi chi? Noi quando facevamo Il periodico Decadale La coscienza del medico E l'avevamo scritta Ampiamente Per dar ragione A Bonifacio Però Bonifacio Aveva la nomea Di essere un santone Che curava Attraverso queste cose Ma gli hanno affibbiato Allora io mi ricordo Questa storia Gli hanno affibbiato Qualsiasi definizione Perché dava fastidio A questo signore E' certo E' chiaro Allora io vi posso garantire Che il cortico Ieri come oggi E' ancora riconosciuto Quindi lui Che credeva Perché non sapeva Questa cosa Non se l'immaginava Noi scoprimmo Che il territorio Attorno Alla Agropoli Agropoli E tutta quell'area lì Della Campania E' un territorio Che è ricchissimo Di questa erba Le capre La mangiavano E avevano Un sistema Digestivo Delle capre Particolare Che elaborava Questo 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 alimento Tanto le capre Non avevano mai Il tumore Certo Non avevano mai il tumore Perché era distrutto Subito Da questo estratto E lui Utilizzava Questo estratto Dall'estratto Faceva le inozioni E come minimo Riduceva notevolmente L'incidenza del tumore Allora E' la stessa cosa Questa è tutta la storia Che ha passato Questo povero diavolo Per aver prescritto Ciò che gli era Concesso Alla fine Ha vinto Tutte le cause Ma gli hanno creato Un problema Che non vi dico Questo per dire Qual è la realtà Della sanità Oggi E qual è la potenza Dell'industria farmaceutica Attraverso i suoi servi E tu Entra nel merito Allora Entriamo nel merito Di oggi Allora Bisogna fare un piccolo Passo indietro Un po' di cronistoria Perché Il 5 settembre Quando ci siamo Visti A Piazza della Bocca La verità Per l'incontro Proposito Della Vestazione subita Per il quarto O quinto Decreto Del Presidente Del Consiglio Di Ministri Che appunto Aveva prorogato Aveva inibito Aveva sanzionato E quant'altro Ci eravamo lasciati Dicendo che ci saremmo visti Verso il 27 di settembre Cosa invece Che è stata Si è dovuta rimandare Perché Procrastinare Procrastinare Sono intervenuti Un po' di difficoltà E quindi non si è potuta fare Però Appunto Abbiamo poi Subito Ti puoi interrompere un momento? Certo C'è una frase Di tale Nabil N. Jamal Che devo dire subito Come in uno zoo Troverai sempre Un gran numero di scimmie Ma pochi leoni E' vero E' vero E quindi Niente C'era Questo appuntamento Il rendezvous Che ci eravamo dati Però Per difficoltà E in sorte Nel frattempo E' stato rimandato Ma Noi siamo stati I primi A Appunto Piazza della Bocca della Vita A dire Ci rivediamo qua Al più presto E Al più presto E' stato Definito Il 10 di ottobre Poi All'improvviso Qualche settimana fa Un paio di settimane fa Sorge dal nulla Questo nuovo comitato Di salute pubblica Con varie denominazioni Nel corso Dei mesi Ha cambiato Denominazioni varie volte Per cui Praticamente Hanno indetto Questo incontro A Piazza San Giovanni Al che noi abbiamo cercato Di far rientrare Questa diaspora E cercare Di portare avanti Un discorso Comune Contemporaneo Ma intendevamo Contemporaneo Nello stesso luogo E invece Loro hanno preso Rutta Ce n'è stato meglio Sì E' stato benissimo Benissimo E quindi Loro hanno portato avanti Il loro progetto E per carità Tutto apprezzabile Fanno Lo stesso Mestiere nostro Nel senso che Portano avanti Un progetto Analogo al nostro E quindi Per carità Un giusto riconoscimento Anche loro Però Nel frattempo Che è successo Che insomma Noi abbiamo avuto Continuamente Una serie Di traversie Non saprei dire Neanche se Scatenate Volontariamente O fortute Il fatto sta che Comunque Insomma L'andazzo E' andato così E quindi Abbiamo perso Per la malattia Di due Operai Dell'azienda Che ci doveva Fornire il servizio Cioè Il podio Il palco E gli Impianti Di amplificazione Per questi due malati La compagnia La società Ha dovuto chiudere E noi ci siamo ritrovati A due giorni Dall'evento Senza Nessuna Possibilità Di portare avanti Il progetto Ci siamo andati a fare Abbiamo trovato Un 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 Impianto Di voci E di luci Adeguato Ovviamente Il palcoscenico Non c'era più Ma avevamo la possibilità Di metterci In alto Su quel podio Naturale Del palazzo E quindi non c'era problema E ci serviva Un generatore Allora abbiamo trovato Quindi Gli impianti Ma non avevamo Il generatore Dovevamo trovare Un generatore Di 5 kilowatt E questo generatore L'abbiamo trovato Ma Stamattina Andando a prenderlo Abbiamo tentato Di metterlo in moto E non si metteva in moto Quindi Siamo rimasti senza Al che poi Alla fine Di tutti i conti Il fatto Non è stato così Deleterio Perché In fin dei conti L'affluenza Sia nel nostro sito A Piazza della Boccaverità E sia Nel sito Da quello che mi hanno raccontato Nel sito di San Giovanni L'affluenza È stata veramente Molto ridotta Più che ridotta Non oceanica Diciamolo in maniera Molto chiara Beh beh Le altre volte Abbiamo avuto Anche 10-15 mila Presenze Stavolta Noi avremmo avuto 300 persone Forse 400 Non lo so Ma un numero Molto esiguo E a Piazza San Giovanni Probabilmente Forse un migliaio Quindi ecco Un numero Abbastanza esiguo La cosa importante Da dire È che però La sfortuna È stata abbastanza Diciamo Equilibrata Nel senso che Abbiamo avuto L'impressione Fondatissima Che La nomea Che era scaturita Dal passaparola In web Sul web Che La manifestazione Sarebbe stata Abbastanza Facinorosa E a quel punto La cosa è stata Smentita Intanto perché La partecipazione È stata minima Come dicevo Ma soprattutto È stata Estremamente pacifica Quando invece Le forze dell'ordine Si erano Approntate In maniera Pesante Addirittura Con un cannone Con i cannoni Ad acqua Proprio Pronti Lì A scatenare Il pandemonio Se non forse Occorso Anche a palle di gola Che fanno molto male Molto Molto male Ti rompono anche Le costole Se ti beccano in un occhio Ti parte l'occhio Quindi Non è una cosa Da scherzare Allora Però Praticamente Sono rimasti fregati Pure loro Perché si aspettavano Una torma Una folla Urlante Esagitata Che in realtà Non solo non era esagitata Ma non c'era manco la folla E quindi Se la sono presa Sempre In solongue Da quella parte lì Sempre in solongue Che abitualmente È senza mascherina Qualche volta Ci mettono La Cosa di ferro La maschera di ferro No la maschera La cintura La cintura Di castitate Di castitate Quindi Questo è Andava a letto Perché poi Comunque Il risultato mediatico C'è stato Perché Incredibilmente Di folla Ce n'era pochissima Ma di giornalisti Ce n'erano tantissime Buona metà Direi Della folla O almeno un terzo Un quarto Della folla Era Giornalisti Televisivi O radio Di giornali Perché A me Vano intervistato Rai 1 Rai 3 Canali 5 Ma c'erano anche Italia 1 TV 7 C'erano tutti Tutti Quindi vuol dire Che Il potere Incomincia A aprire Le orecchie Alzare le orecchie E dice E soprattutto Incomincia a prendere atto Che c'è qualcosa Che Qualsiasi Espediente Siamo L'abbiamo Poi voi l'avete già visto Mi auguro che voi Avete già visto Quello che abbiamo detto Relativamente Alla rivoluzione francese Siamo a qualche Annetto Prima Sì Siamo Attorno al 1775 1780 Esatto Siamo lì Sì Siamo Nei prodromi Cioè Gli elementi Ci sono E faranno sempre Soltanto Degli errori Da ora in poi Ricordiamocelo Perché qualsiasi Iniziativa Che prenderanno Sarà sbagliata Sì Sarà Diforme Cioè Non Non adeguata Inadeguata Alla problematica Che deve risolvere Quindi Non c'è niente Da aspettarsi Di buono Però In questo Ci sarà Sicuramente Gente che soffrirà Delle usurpazioni Delle angherie Che compieranno Queste masnate Al soldo del potere Su questo Non c'è ombra di dubbio Come è successo In realtà per tutto Però Questo Diciamo Conflitto Latente E anche Diciamo Guerreggiato A basso regime Diciamo così Esatto Creerà Una sensazione Generale Un Così C'è Una percezione Generale Una percezione Una percezione Della Della Angheria Subita Della usurpazione Subita Che Alimenterà Il focus Interiore L'animus Della Della Rivolta E sarà Il momento In cui Comincerà A esserci Cosa Che Le brigate Rosse E io lo ripeto Sempre Non hanno avuto Questa percezione Anzi Hanno avuto La convinzione Al contrario Agivano al contrario Agivano al contrario Tant'è vero Che hanno creato La reazione popolare Certo Perché Quell'azione Da banditti Da strapazzo Era chiaramente Non avevano Un supporto popolare Come invece Ci hanno avuto Ad esempio I partigiani Durante la guerra Una fascia Diciamo Di partigiani Tu lo so Che non sei d'accordo Però No Diciamo Che era Il supporto Era dovuto Al terrore Perché Chi ci metteva contro L'ammazzavano Quindi In maniera peggiore Vabbè Comunque E' un altro Discorso Quindi per concludere Insomma Per concludere È questo Il fatto Oggi Quindi ci sono state Tre manifestazioni Di cui Una è andata Deserta Praticamente Ma che Ha fatto Da Ago Della bilancia Della situazione Perché io sono convinto Che tutte le interviste Che ci hanno fatto a noi In queste tre ore Quattro ore Che è durata La manifestazione Probabilmente A Piazza San Giovanni Non c'è stato Perché non c'erano Proprio i tempi Non c'è stato il tempo Per parlare Dialogare Con le media Mentre noi Abbiamo avuto tantissimo Quindi questo è stato Un Diciamo Un vantaggio Inaspettato Che Nessuno Prevedeva Si dimostra Che bisogna Sempre muoversi Rimanere A girarsi I pollici O altre cose Meglio Sempre fare Anche se sbagliando Che non fare Esattamente Soprattutto Nel campo politico Esatto Quindi Io No Volevo Non so se Ci abbiamo ancora voglia Di far qualcosa No Io devo parlare Delle analisi Di Di Gramsci Allora Parlerò brevemente Del saluto da qua Questo era Il pamflet Che avevo preparato Per oggi Questo pamflet Si chiama Sassari La città Dei presidenti E delle grandi famiglie Bellissimo È una vera capitale Sembrava E marginata Ma è la vera capitale Una cittadina Che non arriva A centomila abitanti Che ha avuto Tre presidenti Da repubblica Ufficiali E uno Non ufficiale Ufficioso Ufficioso Ma mi sembra normale A voi Una cosa del genere Come il bar Allora Allora Quindi niente In questa disamina Io appunto Parlavo Della Incredibile Storia Che si è potuta verificare In una cittadina Estremo Proprio Di Massima Periferia Periferizzazione Si Allo sprofondo Allo sprofondo Allora Oddio C'è stato un precedente Tendiamoci La Sardegna È sempre entrata Malgrado L'immagine La copertura È sempre entrata Vivamente Nella storia d'Italia Sempre Per millenni Fatto che era sempre coperta Si E non a caso Napoleone Era corso Ricordiamoci E aveva In corso E ricordiamoci Che la mafia corsa Non è seconda a nessuno Assolutamente Sono pochi Sono quattro gatti Ma contano In Francia Contano moltissimo Tant'è che Il presidente Non Macron Come si chiamava l'altro Il presidente Quello Che si è sposato Dalla Bruni Claudia Bruni Si Far così Sar così Era uno dei componenti Della banda Non della Magliana Ma della banda Della mafia corsa Esatto Aveva fatto proprio Affari importanti Con traffico Di E tanto è vero Che l'hanno fatto Precedente Non a caso Come anche il nostro Non ci facciamo mai Mancare niente Neanche noi Allora Fra questi giovani Lo leggo così Si legge Capisce Tra questi giovani Troviamo l'avvocato Altro nome Esuberante Incredibile Enrico Berlinguer Capo del Partito Comunista Figlio Figlio Capo del Partito Comunista Enrico Berlinguer Nonno del futuro Segretario del PCI L'avvocato Giuseppe Castiglia Professore di filosofia Del diritto All'università di Sassari Da cui Quasi tutti Provengono L'avvocato Pietro Moro Un'industriale Di idee Nettiane Salvatore Azena Mossa Che è anche Il finanziatore Del gruppo Era un finanziamento Che andava sempre Sul sicuro L'avvocato Pietro Moro Un'industriale Cioè Mossa che è anche Il finanziatore del gruppo E Antonio Zaffarino Nonno di Francesco Cossiga E questo è il nucleo Storico di quella Borghesia Anticlericare Democratica Repubblicana Che segnerà Con un'opposizione di fondo Anche gli anni Del fascismo Sensibile ai valori Culturali Che segnerà E in definitiva Sensibile ai valori Culturali E in definitiva All'Europa Curioso Del nuovo E in realtà Profondamente Legata alle tradizioni Della terra Questo gruppo Il gruppo Era Mannaggia Poi in era mente Come si chiamava Il gruppo Vabbè Insomma C'è un gruppo Col nome del bar Dove si riunì No No Quasi Una cosa del genere Tipo Gli Ustari Una cosa del genere Una cosa del genere Va beh Curioso Del nuovo In realtà Profondamente legata Alle tradizioni Della terra Questo gruppo Diede anche Vita ad un giornale La Nuova Sardegna Ma non mi dire Eh sì Concepito Da Pietro Satta Branca E da Enrico Berlinguer Senior Come foglio Di contestazione Di contestazione Di agitazione politica La parentela Tra i Berlinguer E di Cossiga E Giannata La comune matrice E nella bisnonna materna Che sposa In prime nostre Giuseppe Zanfarino E in seconde nostre Giuseppe Loriga Da Zanfarino A un figlio Antonio Che abbiamo visto Tra i repubblicani Più attivi Che sposerà Maria Solinas Da questo matrimonio Nasce Maria Che andrà in sposa Giuseppe Cossiga Il padre del neopresidente Della Repubblica Giuseppe Cossiga Morto Alcuni anni fa E figlio Di Francesca Francesco Maria Detto Cucù Cucù Inedito Medico Di Siligo E viene oggi Ricordato Come azionista Della prima ora Di quelli Per interdireci Che si identificarono Subito Nel messaggio Di lusso Tralascio Una serie di cose Anche lui Un locale Eh Maria Dal secondo matrimonio Matrimonio di Maria Russo Con Giuseppe Loriga Nasce invece Giovanni La cui figlia Maria Andrà in sposa Mario Berlinguer Padre Mario Berlinguer Ricordiamocelo bene Anni 40 45 E sappiamo che Quello che ha combinato Mario Berlinguer Il senatore Appunto Il senatore Aventiniano Prima Mendogliano Poi socialista Padre di Enrico Ma non è tutto I Berlinguer Sono poi legati Alla lontana Con i segni E tramite Un rapporto Molto più stretto Con i siglienti Stefano Siglienti L'economista Ex presidente Dell'Asso Bancaria E dell'Imi Promotore Dell'industrializzazione Della Sardegna Ha sposato Nel 26 Ines Berlinguer Mi pare giusto Eh Sorella di Mario Il padre di Enrico Certo Quindi era zio Siglienti Era zio Eh sì Di Enrico Donna di Stavodinarie capacità E tralascio Alcune cose Per andare Poi qua giù Allora Francesco Costica Nacqua a Sasser Il 26 luglio Del 28 Da una famiglia Medioburghese Repubblicana Antifioscista I genitori Sono Giuseppe Costica E Maria Mariuccia Zanfarino Era cugino Di secondo grado Di Enrico E Giovanni Berlinguer La cui madre Anche Giovanni Non ci scordiamo Giovanni Importantissimo Ministro Dell'istruzione Ministro Degli esteri Tutti i cazzi Eccetera La cui madre Mariuccia Lorica Era cugina Di Maria Zanfarino Poiché i rispettivi padri Giovanni Berlinguer Medico Igenista Certo Anche Aspetta che mi ha chiuso Era cugina Di secondo grado La cui madre Maria Mariuccia Lorica Era cugina Di Maria Zanfarino Poiché i rispettivi padri Giovanni Lorica E Antonio Zanfarino Condividevano La stessa madre Erano Fratellastri Quindi un intreccio familiare Di incesti quasi Di incesti Uno con l'altro Una cosa allucinante E allora Nonostante gli fossi comunemente chiamato Cossiga Con l'accento sulla U La pronuncia originale del nome è Cossiga Si tratta di un casato sardo Di nobilità di Toga Che a suo dire aveva esponenti collegati Ad una loggia massonica locale Cossiga In dialetto sassarese Significa corsica E indica la probabile provenienza Della famiglia Eccetera Vi lascio Vi emendo Tutta sta parte qua Perché Del tutto L'influente Per passare No questa è sempre Cossiga E qui Sarebbe Da discutere Per spiegare Quello che è successo Con la caduta Del muro di Berlino In Italia Perché il muro di Berlino Ci ha avuto Delle ripercussioni Tremende Anche su Cossiga Che voleva fare Il picconatore Pure lui Te lo ricordi Quando picconavano Il muro di Bermino Tant'è vero che è stato Soprannominato Il picconatore Esatto E quello Dei comunisti Infatti Senti che è successo La messa Sotto accusa Sotto stato di accusa Di Di Oddio Lui Vabbè Due Ricordo ciò Che ne scriveva Quel povero diavolo Che poi è stato assassinato A D.O.P. E io c'ho tutto C'ho tutta la documentazione Alcuni si chiamavano Mi ricordo più Porca miseria Palombelli La lettera del 7 novembre del 90 Con la minaccia di sospendere il governo Onde bloccare la decisione governativa Riguardante il comitato Sull'organizzazione Gladio C. Le continue dichiarazioni Circa la legittimità Della struttura Denominata organizzazione Gladio Benché fossero in corso Indagini giudiziarie e parlamentari Si sapeva tutto di Gladio D. La minaccia Del ricorso alle forze dell'ordine Per far cessare Noventuale riunione Del Consiglio Superiore Della Magistratura Mino Pecorelli Eh, Mino Pecorelli Nonché del suo scioglimento In caso di non osservanza Del divieto Di discutere certi argomenti E. I giudizi Sulla loggia massonica P2 Nonostante la legge Di scioglimento dell'82 E le conclusioni Della commissione parlamentare In inchiesta F. La pressione sul governo Affinché non rispondesse Alle interpellanze Presentate alla Camera Nel maggio del 91 All'esponente del partito Della sinistra G. L'invio Dito ad allontanare Il ministro Rino Formica Dopo le sue dichiarazioni Sulla organizzazione Gladio H. Le rivendicazioni Di un potere esclusivo Di scioglimento delle Camere E la sua continua minaccia A. I. La minaccia Di far uso dei dossier E la convocazione Al Quirinale Dei vertici svizi segreti I. Il ricorso continuo Alla denigrazione Onde di condizionare Il comportamento Delle persone offese E prevenire possibili Critiche politiche Tra i firmatari Vi erano Ugo Pecchioli Luciano Violante Marco Pannella Nando Della Chiesa Giovanni Russo Spena Sergio Garavini Lucio Spena Lucio Libertini Lucio Magri O Magri No, no, Magri Leo Luca Orlando E Diego Novelli Allora, tu lo sai Chi erano questi? Sì Tutti massoni Mafiosi Di mafia siciliana Ma anche comunisti Anche comunisti Mafiosi, comunisti E mafiosi Allora, sentite come andate Il comitato parlamentare Ritenne tutte le accuse Manifestamente infondate Tra cui venne raggiunta Quella di aver abusato La propria carica Quando propose unilateralmente La grazia Per il fondatore Delle BR Renato Curcio Come si legge Negli atti parlamentari Del 12 maggio del 93 La procura di Roma Richiese l'archiviazione A favore di Cossiga Il 3 febbraio del 92 E l'8 luglio del 94 La richiesta fu accolta Dal Tribunale dei Ministri Cossiga scrisse Senti, questo è importante Il partito comunista Sapeva dell'esistenza Di un'organizzazione segreta Con le caratteristiche di Gladio Lo dico perché Ne fu informato Da Emilio Taviani Che era? Democraziano Taviani? Taviani, sì Lo sapeva tutto Lo sapevano tutti Padre dei fratelli Taviani Certo Uno dei primissimi ministri Della democrazia cristiana Certo, certo Lo dico perché Fu informato Da Emilio Taviani Perché i comunisti Lanciarono Lanciarono Comunque Quella campagna E perché inserirono I dati di Gladio Tra le accuse Che portavano Alla richiesta di incriminazione Ai miei confronti Credo di avere la risposta Ecco la risposta Quello dei comunisti Fu fuoco di batteria Era da poco Crollato il rumo Di controbatteria Di controbatteria Era da poco Crollato il muro Di Bellino E temevano Che potessero arrivare Da quella parte Notizie di chissà che genere Sul loro conto E sono arrivati No dopo Sono arrivati Quattro anni dopo Dopo ne parliamo Per evitare Di trovarsi in imbarazzo Cominciarono a sparare Nel mucchio E io Fui colpito Per primo In quanto Presidente della Repubblica E ce la lascio Ma questo per dire Che nel 97 E' emerso Il codice Il codice Mitrochin Certo Il codice Mitrochin Il quale Nel quale Codice di 280 Vagine C'è Tu E io ce l'ho E pure E c'è tutto Quello C'è tutto Quello che c'è Da sapere Sul partito comunista Dal 1943 Anche pure prima Del 1940 In poi Capito E allora Ma va detto Che all'epoca C'era molto più Informazione E apertura Di quanto ci sia Adesso Perché tutto Quello che sappiamo Oggi Su quell'epoca Lo sappiamo Perché è uscito Fuori all'epoca Oggi è tutto Coperto Sia anche Perché come sappiamo Bene Dietro c'è La mano Dei Gesuiti Ma porco Giuda Qua non si sa Niente Di niente Chi è che fa Inventare Tutti questi decreti Ad esempio Che vengono Esposti Con la massima Tranquillità Dal presidente Conte Che non è Presidente Per niente Perché non è Stato eletto Da nessuno E da chi è Che li tira fuori E evidentemente Dietro c'è la mano Del prete Allora qui Per aggiungere Ancora Un altro Briciolo Di verità Dunque Enrico Berlinguer Amato dirigente Del partito storico Della sinistra italiana Cugino di Francesco Cosica Come abbiamo detto Presidente La Repubblica italiana Entrambi erano Parenti Di un altro Sasserese Antonio Segni Anche gli Presidenti Da Repubblica italiana Nome sardi Che hanno segnato La storia d'Italia Nel novecento Prima dopo la guerra Su fronti diversi Ma con grandi comuni Ideali Dice qua Con al centro L'uomo Dice questo Testa di Castro A questi personaggi Importanti Va aggiunto Un altro nome Di un altro conterraneo Giuseppe Saragat Poco noto Nella sua origine isolana In quanto Il cognome Saragatu Si chiamava Saragatu Quello vero E prima ancora Si chiamava Saragato E è stato adottato Una forma catalana Del nonno Pietro Saragatu Avvocato Noto Natto A tempo Pausania In provincia di Sassari Sempre Ricordiamoci Sempre in provincia Di Sassari Ma la cosa Ancora più strana E allora Già è strano Che siano stati eletti Tre presidenti E un presidente Del partito Più importante Comunista Italiano Per tantissimi anni È stato presidente Dei comunisti Italiano Finché è morto La cosa incredibile È che Il signor Saragatu No? Abbiamo detto Saragatu Che io quando scrivevo Degli articoli su di lui Lo chiamavo Sparapatta Saragatu Il caro Giuseppe Saragatu In compagnia Con un altro tale Che si chiamava Alessandro Pertini Mai sentito? No Un tale che si chiamava Alessandro Pertini Mentre erano stati catturati In maniera banale Come i sorci col tovo Banale Sono fatti fregare Proprio per quattro Che è una cazzata tremenda Erano dentro in galera A Regina Cieli Arriva La strage Di Di Via Rasella Di Via Rasella La strage Di Via Rasella Sono state due strage Aspetta La strage Di Via Rasella Per cui Ogni Teresco Un sciso Entra in vigore La Come si dice La legge Quella La ordo La ordo Quella Barbara Occhio per occhio Occhio per dieci occhi Occhio per dieci occhi E Dove vanno a raccogliere Questa gente Da fucilare Alle forze ardiladine Dentro le carceri Ovviamente Che vanno a cercare Per strada Fanno anche Alcuni poveraggi Che si trovarono Da quelle parti Sì Hanno anche rastrellato La gente Però Il corpo principale Di quantità Di quei 300 e passa 330 Li dovevano essere In realtà Li prendono Alle forze ardiladine Nelle carceri Nelle carceri Chiedo scusa A Regina Coeli Ci sei? Ci sei? Batti un punto C'è un cancello C'è un cancello Dove c'è scritto Consorzio Volusia Eh quello Deve entrare Consorzio Volusia Esattamente Entra Entra Di che vai da Vitali Giorgio Vitali Torno a Vitali Ok Quindi vado No 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 Ascoltami Tu devi Se guidare dritto Fino in fondo Dove finisce la strada Insomma In conclusione Il signor Saragato Questi qui Arrivarono E non trovarono I due Convitati No Sono riusciti A fuggire Con l'aiuto Della moglie Del medico Compiacente Sotto Finanziamento Degli americani Che avevano finanziato A loro volta I mercenari Quel medico Del partire E poi Tutti questi Elettroscena No ma aspetta È finito Pertini Saragat Segni E Cossiga Tutti Presidenti della Repubblica Quattro Presidenti della Repubblica Su 12 Ma che cazzo Vogliamo ancora credere A libertà di stampa La libertà E soprattutto A libertà di voto A libertà di voto Vi rendete conto Di che cazzo È successo qua E questo è solo Uno degli episodi Che vi voglio raccontare Uno E questa è roba Scritta su Repubblica Non è che La dico io Me la siamo inventati Scritta Sui lanci Della Ansa Avete capito Vai Questa è la cosa importante Vabbè Vado ad aprire Allora Seguita Comincia No tu chiudi E riapri Per favore Sempre Solo No tu chiudi E riapri Guarda se Quanto abbiamo fatto C'hai ancora 80